che cringe cosa portiamo oggi amore indiscusso verso tutti oggi portiamo un mazzo lamborghini ma non perché è rarità massima ma perché sono mazzi meme ma con staple che non meritano yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui insieme francesco che viene anche sempre live sono vestito così non per il video per un canale morente ma per perché ero lavoro prima però oggi si porta la sua deck profile di sushi so che anche quello mazzo morente però nel senso poverino meglio non farglielo notare un mazzo meme con staple costose ti lascio iniziamo chiaramente con le carte d'archetipo che sono i sei gialloni perché questo è il supporto nuovo uscito in pote e viene considerato come il giallone e si speciala se con se ci abbiamo in mano l'originale poi tutti gli altri entrano in maniere diverse ma tutti special lui se controlliamo giallone entra special lui se controlliamo xis o sempre il giallo entra special e lui rivelando un sushi da mano entra special questi mostri e poi d'archetipo una terreno e una trappola perché hanno tutti effetti anche la terreno di incimare i sushi che ci servono e facendo xis ce li fa pescare reparto peschini diciamo e addini da inaspettato per portarci la carta fondamentale che è lui il giallo due decisioni dolorose per lo stesso motivo due mappe di piri race uscita in in brawl e fortissima perché ti può portare lui e se parti di lui e un qualsiasi sushi puoi fare f02 xis quindi top stiamo parlando sempre di un mazzo che comunque esplode da da un hash però però divertente a giocare e poi perché sta 22 desire ora reparto cancro si può dire cancro reparto bruttino da vedere cancerogeno vabbè tre hash qualsiasi entra anche bella al posto di hash corvo non lo so poi lui fondamentale perché è forte contro tutto il meta tutto e ovviamente te lo vedi quando la partita è iniziata e c'era il cimitero esatto quindi ma ti dirò le volte che l'ho testato non devi nemmeno calare sushi perché giochi questo l'avversario quitta concede ti stringe va bene fa qualcosa tocca a te mina posto esatto poi ecco reparto ancora più interessanti spacchini tre lightning storm ero indeciso se mettere lightning storm o poi vedremo anche o tre mine necro valle per lo stesso motivo di shifter e terraformare per cercare volendo anche la terreno su ship e vabbè la carta più forte di tutte che è richiamato alla tomba dicevo so indeciso però mi piaceva così di mettere di side dark ruler no more se no quando lo desido di metterlo al posto delle lightning storm però in generale mi piaceva più lightning storm e quei sono 41 carte perché vuole andare secondo il mazzo c'è qualcuno purtroppo che lo gioca primo ma non boh gli over lo giocano primo si gioca secondo su ship già fa poco non ha negazioni l'hai visto il video che ti ho mandato sì l'ho visto e come è bello sì poi vabbè allora poi e extra deck 2 2 2 e 2 l'archetipo brevemente lui attacca due volte che peschi una carta lui busta tutti su ship e se c'è una terreno quindi anche mina necro valle qualsiasi terreno protegge dalla distruzione quindi incredibile lui attacca diretto lui infatti è il migliore per farci zeus sopra perché che so mina evo chi il giallo evo chi quello per fare lui fai lui attacchi diretto e ci fai zeus sopra insomma e gg per te poi x is generici dueller babusca si chiama babusca bagusca vai sono forti gagaga per i turni forte sempre poi vabbè f0 il piccolino e il grande l'unica negazione da mostro del mazzo poi per andare tipo contro ignister roba che va troppo oltre di attacco utopia e s39 arriva a 5000 però ecco più di quello poi concedi e poi due zeus e niente questa è la lista divertente forse anche troppo costosa per su ship fondamentalmente giochi 10 euro di marzo gioco nemmeno 10 euro di mazzo la la lilla la base costa se la comprate proprio da card market la pagate 5 euro rarizzate con questi super no dove ecco questo è super perché sono ricco tipo quindi 5 euro 5 euro la base americana volendo tanto su tutte i comuni e bon tutto il resto poi più ci mettete staple forti è vero me l'ha regalata lui la base su ship cosa ne pensi che non mi piace mi piace più la mia perché siamo democristiani qua no allora mi piace molto più la mia le persone per me non hanno capito come giocare su ship su ship va giocato con mina mistica per forza ogni mazzo che può giocare mina mistica deve giocare finché non la toccano ma convinta a giocare mina mistica può rinviare nel senso di che stiamo a parlare ragazzi mina mistica la carta più forte che c'è tu la giochi se l'avversario non la può negare ma anche fai su ship giallo da 2000 attacco passi mina e passi abbiamo messo le persone in testa idee che potrebbero veramente no dico dico pagatela perché poi la banneranno però se siete coraggiosi io ce l'ho l'ho presa da mp20 quindi tempo fa poi è sceso sta 7 euro adesso è risalita il primo playset ho visto sta tipo a 15 no 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 secret sì io parlo secret no l'ho visto pure io davvero si è sceso e c'è stato un app generale per la ti dico a me io l'avevo comprate a quando erano scese tipo a 5 euro l'una io l'ho venduta a poco perché stavano a 3 e va bene ragazzi il video finisce qua spero che la decklist di sushi vi sia piaciuta so che non lo proverete mai però nel senso almeno c'è stata la buona volontà di portarlo dico se avete le staple la base costa poco cioè se dovete andare un local così per ride andate ci provate quindi se ci avete 5 euro da buttare ci si può provare sì prima che esce mamma tipo è enorme mi sa che quando uscirà sto video sarà già uscito mamma quindi ci sarà i shizu ragazzi prendere del cazzo non mangiamo ok allora non lo giocate non giocate questo mazzo a meno che non siate con amici ma amici che non giocano reparti shizu esatto amici amici veri non quelli che giocano reparti shizu non so amici veri delle bestie già toccato in ocg per fortuna poi ragazzi state mesi e noi ci rivediamo settimana forse domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti bella a tutti bella